50 ospiti, 16 in tutto gli appuntamenti, 2 incontri per le scuole, 8 diverse location, 3 serate a teatro e una al cinema. Torna a Udine il primo e unico festival in Italia dedicato alle fake news. Dal 14 al 19 novembre siamo collegati con il suo ideatore e curatore Gabriele Franco. Buongiorno, benvenuto Gabriele. Buongiorno e grazie davvero per l'invito. Buongiorno Gabriele. Allora, raccontaci, innanzitutto Gabriele dobbiamo spiegare una cosa. Mia madre ci sta seguendo, vuol sapere che cosa significa fake news perché non conosce l'inglese. Allora, le fake news sono le notizie false, quelle che comunemente vengono chiamate bufale, cioè delle informazioni che o sono del tutto false, create soltanto per divertimento oppure per fare profitto oppure per creare un problema a qualcuno, ma le fake news sono anche quelle informazioni non del tutto false per volontà, ma per inefficienza, magari perché è stato commesso un errore, magari perché c'è una fonte che non è stata verificata. Quindi il problema delle fake news, il problema delle bufale è molto complesso già dal momento in cui bisogna definire che cosa sono le fake news. Quello che è certo però è che da 3, 4, 5 anni tutti noi dobbiamo confrontarci continuamente con questo problema, perché dai social, in televisione, in radio, siamo sommersi di informazioni, sommersi di notizie, e cercare di capire quelle che sono vere e quelle che non lo sono diventa una sfida sempre più complessa. E da qui l'idea di un festival. Chiarissimo. Molto bella, molto bella l'iniziativa e per quanto effettivamente già da qualche anno che il tema ha assunto i tratti di un argomento molto importante, non se ne parla mai abbastanza, perché la nostra navigazione in internet tante volte, dove probabilmente impattiamo il maggior numero di fake news, è molto veloce, distratta, quindi spesso, facilmente possiamo cadere in errore e mantenere alta l'attenzione su questo argomento, lo reputo fondamentale, anche perché poi tante volte le fake news possono associarsi a dinamiche di truffa. Esattamente, esattamente. Pensiamo solo che secondo un rapporto appunto dell'ultimo anno, tre italiani su quattro non sono in grado di riconoscere una fake news. E questo che cosa vuol dire? Che non hanno le competenze informative per riconoscerla. Questa non è per forza un difetto, un qualcosa per cui noi dobbiamo sentirci, diciamo, in colpa o appunto in difetto. Si tratta semplicemente di riconoscere come in rete tutto corre velocemente. E noi purtroppo subiamo passivamente questo grande, questo fiume in piena di informazioni, che come giustamente hai detto può portare a delle truffe. Abbiamo, ogni giorno insomma, abbiamo delle evidenze di queste notizie false che ci possono portare ad esempio a fare una donazione, un bonifico, e in realtà il destinatario non era quello che ci immaginavamo. Ma l'impatto è ancora più evidente quando pensiamo banalmente a cosa scegliamo di votare oppure cosa scegliamo come opinione, quando dobbiamo pensare ad esempio se siamo pro un argomento o pro un altro. Può influenzare anche le scelte che facciamo come genitori, come membri di una famiglia, può orientare le scelte che facciamo sul posto di lavoro, perché in base a come leggiamo e interpretiamo una notizia possiamo decidere se fare qualcosa o non farla. Dunque le notizie e dunque il tema delle notizie false è ormai capillare nella nostra vita e quindi l'obiettivo di questa manifestazione, la nostra missione, è quella proprio di cercare di riequilibrare questo disequilibrio informativo offrendo delle competenze, quindi per aiutare le persone a sviluppare il pensiero critico, cioè ad andare con la lente di ingrandimento e sapere quando legge una notizia che cosa fare per capire se è vero o se è falso. Noi non vogliamo dire cosa è vero e cosa è falso, ma dobbiamo aiutare le persone ad avere gli strumenti per farlo. Dunque diffondere pensiero critico e cultura informativa. Gabriele, Udine si prepara ad accogliere questo festival con un cartellone di eventi ricchissimo ed estremamente variegato, con due temi che saranno al centro di numerosi incontri. Quali? Esatto, abbiamo scelto fra i tanti temi che affronteremo, visto che appunto il tema delle fake news è trasversale, quindi noi andremo a parlare di alimentazione, di salute, di infodemia, andremo a toccare il tema della giustizia, dei filtri sui social, avremo la satira, ma i temi che secondo noi in questo momento avevano un'urgenza di essere affrontati erano sostanzialmente principalmente due. Il tema del femminismo, delle discriminazioni di genere e dei femminicidi, è un tema che purtroppo è tristemente all'ordine del giorno e rispetto al quale vediamo tutti i giorni come c'è tanta disinformazione, c'è tanto pregiudizio anche nell'utilizzo delle parole e pregiudizio nell'utilizzo delle informazioni. E affianco a questo un altro grande tema, quello dell'intelligenza artificiale. Ormai tutti ne siamo costantemente, diciamo, sottoposti, ne lo sentiamo parlare, lo utilizziamo, io sono un avvocato e nel lavoro mi occupo proprio di diritto applicato l'intelligenza artificiale, vedo quanto questa nuova tecnologia stia invadendo la società e noi come cittadini però viviamo una dimensione in cui ci chiediamo ma bisogna avere paura dell'intelligenza artificiale, ci luverà il lavoro, ci faciliterà la vita oppure un giorno l'intelligenza artificiale a niente era l'uomo, come nei peggiori film di fatta scienza. Per cercare di capire se e quali devono essere le informazioni sull'intelligenza artificiale che possono considerarsi corrette, abbiamo raccolto, come per il femicidio, un pool di ospiti di primo ordine perché abbiamo sul femminicidio ad esempio Pegamo Shirpur, l'attivista per i diritti delle donne iraniane che tutti abbiamo conosciuto, di cui ci siamo innamorati sul palco del Ralston a Sanremo l'altro anno quando ha fatto un monologo sui diritti delle donne iraniane. Per parlare di intelligenza artificiale ad esempio abbiamo don Andrea Ciucci che appunto fa parte della fondazione Renaissance, la fondazione vaticana per un utilizzo etico dell'intelligenza artificiale. Il numero degli ospiti poi sono tantissime, vorrei citarli tutti, ma siamo davvero felici di aver ricevuto così tante adesioni per affrontare il tema in questo modo. Pega tra l'altro è un'amica di Padre Pio TV, è stata già alcune volte anche nostra ospite per cui siamo felici che sia presente anche lì da voi. Il programma è veramente ricco, si articola anche con spettacoli e show e c'è una connessione importante, a mio avviso fondamentale anche con il mondo della scuola. Esatto, abbiamo capito come le due principali caratteristiche di questo festival devono essere da un lato affrontare il tema in modo trasversale, cioè la fake news non sono solo un problema dei giornalisti, non lo sono più, ma sono un problema di tutti e quindi noi dobbiamo parlarne parlando appunto di femminicismo, intelligenza artificiale e salute, alimentazione, quello che scegliamo di mangiare. Però è anche importante che questo tema venga passato a tutte le generazioni e quindi noi non solo faremo degli eventi per tutta la cittadinanza, aperti dai bambini agli adulti, ma faremo anche degli eventi nelle scuole con i ragazzi, a partire dalle scuole elementari e medie. Porteremo ad esempio Andrea Maggi, che è il professore del collegio di Rai 2, che farà proprio una lezione ai ragazzi sulle fake news. Abbiamo scelto proprio ospiti che potessero connettersi in maniera più facile con i destinatari per aiutare ad apprendere in maniera anche più leggera. Per le superiori faremo un evento all'Istituto Malignani di Udine, che è un'eccellenza nazionale come scuola e porteremo anche qui l'approccio di un filosofo per parlare di fake news e pensiero critico. Faremo un evento col mondo delle imprese, l'università, in collaborazione con l'associazione di laureati in ingegneria gestionale fiolana, portando proprio le esperienze delle aziende sul territorio, proprio perché vogliamo prendere a 360 gradi la popolazione e per chiudere faremo anche un evento sull'educazione permanente, quindi sul ruolo dell'educazione per gli adulti e quelli che seguono gli adulti per restare sempre informati. Peccato non esserci Tony, ma... Davvero, complimenti a Gabriele e a tutto il suo staff per questo evento e per questo programma così ricco e importante. Staff che ricordo, Gabriele, questo festival è organizzato da un gruppo di giovani professionisti friulani dell'associazione Prisma, giusto? Esatto, e l'elemento che forse ancora ci più di contraddistingue è l'età media, perché siamo un gruppo under 35, quindi ci contraddistinguiamo anche per questa freschezza e il team è favoloso perché sono tutti quanti professionisti, studenti e tutti davvero impegnati e desiderosi di dare un contributo e provare a cambiare un po' il modo in cui questo tema viene a essere affrontato nella società. Abbiamo libri professionisti, consulenti anche esterni, però c'è molto entusiasmo e molta voglia di fare e molta freschezza di giovani. E si percepisce. Teniamoci in contatto, Gabriele, perché sono certa che potremmo fare anche delle cose belle insieme. Volentierissimo, sarebbe davvero un piacere e un onore. Ricordiamo il sito internet, fakenewsfestival.it, bisogna prenotarsi, acquistare un biglietto e l'ingresso è libero. Diamo qualche indicazione di questo genere, Gabriele. Ingresso libero, non c'è necessità né di prenotazione né di acquistare un biglietto, ovviamente fino all'usorimento posti, le location però sono molto grandi, ci sono dei teatri, dei cinema, quindi aspettiamo tutti. Per qualunque informazione appunto c'è il sito, ma anche le nostre pagine Facebook, Instagram e LinkedIn. Anche scrivendoci direttamente tramite queste pagine o l'email, info, chioccio, la fakenewsfestival, noi andiamo a rispondere da letto e quante le informazioni e poi vi aspettiamo a Udine dal 14 al 19. Vi seguiremo, vi seguiremo con attenzione, intanto davvero complimenti e l'augurio di un buon lavoro. Grazie. Grazie. Ciao, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie all'avvocato Gabriele Franco che ho chiamato, ho dato subito del tuo e l'ho chiamato Gabriele, giovanissimo e ha detto insomma che sono una squadra di under 35 e guai a dire che questi giovani non si impegnano abbastanza. Le notizie che ci piacciono, altro che i ragazzi che si danno da fare, i giovani che si danno da fare mettendo in campo le loro competenze, la loro passione che poi diventa esperienza e diventa importante per tutti noi. E allora ci fermiamo ancora qualche istante, brevissima pausa e poi subito dopo le parole di Don Francesco Armenti con Dritto al Cuore.